Se l'America è il Black Friday, ad Arezzo arriva l'Ello Friday. Venerdì 20 maggio sarà infatti una giornata dedicata allo shopping che conviene grazie all'app lanciata da ConfCommercio Hello Arezzo. Per un giorno in oltre 60 negozi aderenti al circuito, il 30% dell'importo speso sarà ricaricato sotto forma di crediti da utilizzare per altri acquisti sempre nei negozi convenzionati del circuito Hello Arezzo. Il circuito Hello è un progetto che è stato lanciato nella città di Arezzo, prima città in Italia, il 17 ottobre. In pochi mesi oltre 10.000 utenti hanno scelto di dare fiducia a Hello, hanno scaricato l'app, il meccanismo è semplicissimo, si ha l'app sul telefono e presentandosi alla cassa, esibendo la card, l'Ello card che è all'interno dell'app, si ottiene uno sconto, sono dei crediti che si possono poi rispendere all'interno di questi negozi. Attualmente sono 150 attività aderenti e i crediti che vengono accumulati possono essere riutilizzati o per fare acquisti o anche per pagare il parcheggio. Hello è un progetto locale e i soldi investiti dai commercianti sulla card rimangono all'interno della città di Arezzo e invoiano le persone a rispendere all'interno della città. L'intento è quello di diffondere l'uso, di farla usare il più possibile perché una volta usata venga messa nell'abitudine giornaliera di chi ne usufruisce appunto pagando i parcheggi o tutto quello che vorrà. E dopo una giornata di shopping per concludere l'Hello Friday ci sarà uno speciale aperitivo Hello nei bar convenzionati del circuito. Alla fine dello shopping sarà offerto un aperitivo con una modica cifra e proprio per finire in allegria questa giornata contrariamente a quanto dice venerdì nero sarà un venerdì di festa e di shopping.